Paolo Mereghetti correva l'anno 1993 quando usciva la prima edizione del dizionario dei film conteneva appena 13 mila schede al governo c'era Ciampi e tutti si interrogavano Clint Eastwood è davvero un grande regista oggi la risposta ce l'abbiamo il dizionario è arrivato alla tredicesima edizione esce però in un anno difficile in un anno strano i cinema sono chiusi e molti si chiedono come cambierà il cinema e come cambieranno i film la distribuzione la produzione nei prossimi mesi anni anche quando l'emergenza sarà finita che effetto ti fa pensare al dizionario in queste settimane? Il dizionario era nato come uno strumento per chi stava a casa e guardava i film da casa in qualche modo questa pandemia favorirebbe chi vuole continuare a vedere i film da casa certo uno pensa anche al cinema quello con la C maiuscola quello che esce nelle sale e che stiamo aspettando con ritorno non a caso nell'introduzione citavo una frase della peste di Camus che è un libro che raccontava un'altra pandemia e che diceva ma quando tornerà alla vita normale cosa vuol dire vita normale vita nuova nuovi film al cinema e questo me lo auguro anch'io perché sono convinto che nonostante tutto nonostante l'attacco il successo che in questo momento hanno le piattaforme streaming il cinema vero continuerà a essere quello al cinema e i produttori anche gli americani lo sanno e infatti vedrai che fra sei mesi otto mesi fra un anno il cinema torneranno a lavorare a ritmo pieno ma prendendo gli ultimi di mesi orfani dei colossal dei blockbuster della marvel hai visto dei bei film in prima visione hanno hanno comunque fatto ci sono stati dei titoli che ti hanno colpito che sono usciti per esempio due film italiani decisamente notevoli uno favolacce dei fratelli d'innocenzo e l'altro volevo nascondermi di diritti sono due film italiani tutti e due presentati a berlino che dovevano uscire subito dopo invece subito dopo berlino è scoppiato il lockdown internazionale italiano e internazionale i film sono riusciti a giugno mi sembra e sono decisamente due film molto interessanti due tre stelle belle piene tanto per usare il discorso del dizionario e tra l'altro d'estate sono usciti alcuni film francesi di piccoli film che hanno trovato uno spazio decisamente interessanti poi ahimè a settembre speravamo che la festival di venezia fosse l'inizio della rinascita invece alla fine di di settembre grosso modo ottobre ha cominciato a parlare di di questa recrudescenza e quindi il cinema si sono preparato il cinema si è preparato a ritornare in streaming però per esempio un film come miss marx mi sembra molto interessante e poi alla fine di agosto è riuscito tenet che era stata una bella iniezione di fiducia nel grande cinema anche se di tenet non si capiva molto diciamo sono uscito dalla prima volta che l'ho visto dicendo non ho capito niente ma mi sono divertito nel senso che è un film chiaro lui stesso lo stesso regista sostiene nolan sostiene che bisogna vederlo almeno due o tre volte per capire forse ci vuole anche una laurea in fisica teorica cosa che mi manca però devo dire che mi sembra un film piuttosto interessante è l'ultimo film in ordine cronologico citato su schedato nel dizionario non è un capolavoro assoluto però è un film pieno di belle cose abbiamo impiegato ci siamo messi in tre abbiamo impiegato una settimana a fare un riassunto che aiutasse a capire quello che dice però lo scopo del dizionario è anche questo aiutare a capire i film difficili a proposito di come sta cambiando la distribuzione l'unico film che ha meritato quattro stelle negli ultimi due anni è un film distribuito da netflix e prodotto da netflix quindi che ha avuto i soldi dalla principale società piattaforma di streaming e che al cinema si è visto si è visto poco solo in alcune sale anche un pochino boicottate è la prova che anche il modo di vedere i film sta 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 cambiando ma non lo so fino a che punto perché netflix sta tornando un po sui suoi passi nel senso che proprio poco prima che cominciasse il lockdown in italia aveva proposto a una serie di sale attente al cinema di qualità di programmare sette loro film se non sbaglio sei o sette film di buona qualità ha cominciato con il processo dei chicago sette e poi l'esperimento si è fermato per ragioni di di covid ma però io spero che possa riprendere perché anche loro si sono accorti che la visione al cinema non soltanto vabbè è meglio ma come dire ha un ritorno più interessante anche per chi poi guarda i film in streaming e siccome vogliono sono interessati non soltanto alle serie non soltanto diciamo al facile divertimento ma anche a dei film di qualità però perché vogliono imporsi come un vero produttore non a caso sono entrati nell'associazione dei produttori hollywoodiani i netflix con la metro col dui meyer con la warner con la disney ecco che secondo me le cose stanno un po cambiando all'inizio hanno puntato naturalmente solo sullo streaming i film si potevano vedere solo lì se non qualche festival e invece adesso stanno pian piano tornando sui loro passi irishman è stato boicottato da alcuni distributori secondo me sbagliando perché è come distribuire i libri in libreria in edicola sono due pubblici diversi e questo è stato provato scientificamente e alcuni esercenti illuminati mi dicono che i film al cinema e in streaming sono come dire per due pubblici diversi e quindi più giovani probabilmente quelli dello streaming certo quello che più appassionati quello sicuramente però queste cose cioè sta si sta capendo che ci possono essere diversi modi per far arrivare il cinema al loro pubblico certo devono essere regolamentati ci vogliono delle regole delle attenzioni però queste cose ci sono e penso che quello che è successo come dire che è stato qualcosa di negativo per tutti avrà però un piccolo effetto positivo quello di far ripensare alla distribuzione dei film senza negare l'importanza della sala assolutamente quindi con un approccio meno ideologico secondo me si vedrà anche il festival di canton era pian piano sui suoi passi a te capita di guardare anche dei film in streaming si mi capita ogni tanto alla sera o di cerco di vedere dei film che si potrei vedere soltanto lì e qui voglio essere informato oppure come dire vedo dei film in televisione che poi c'è con il videoregistratore sulla televisione che lo stesso mezzo la mia è abbastanza larga e lo stesso grande e beh c'è durante l'ultimo questo streaming avrò rivisto tre o quattro volte un uomo tranquillo di john ford è un film che emette allegria di vivere infatti che si è guadagnato per la prima volta quattro stelle esatto perché prima ero troppo giovane non capivo la qualità di questo capolavoro a questo proposito ti capita abbastanza spesso di cambiare di cambiare giudizi sia in positivo sia in in negativo forse l'edizione che aveva più sconvolgimenti è stata quella di quattro anni fa del del 2016 quest'anno quali sono le un po' di cambiamenti ci sono stati nel senso che non so se spesso però vedo i film nuovi ma ogni tanto rivedo anche quelli vecchi e cerco di domandarmi se certi film mantengono l'importanza l'impatto l'effetto che avevano quando l'ho visto la prima volta oppure l'hanno perso oppure hanno dimostrano gli anni che hanno succede come dire non tutti i vini invecchiano allo stesso modo e però e anche perché delle volte per ogni edizione cerchiamo in qualche modo di ripensare magari alla carriera globale di un regista perché poi le schede vengono fatte una volta uno un anno un'altra edizione un'altra così e invece riguardare in qualche modo un po' tutta la filmografia di un regista ti permette di avere uno sguardo più attento questa volta l'abbiamo fatto per vaida per la vardà ma anche per verdone per francesco nuti per per tanti registi e in questo lavoro rivedi e pensi e ti domandi è veramente un lavoro è veramente quel bidone che mi sembrava all'inizio la prima edizione del 93 l'abbiamo fatta tutta sulla memoria nel senso che non potevi rivedere i film invece dopo per le edizioni successive tutti i film che c'erano erano stati visti e ripensati al momento per esempio so che mi attirerò i fulmini di un po' di persone però per esempio micidia luci rosse che era uscito in blu lei l'avevo comprato costretto tutta la famiglia a vederlo compreso mio suocero e dopo mezz'ora mi hanno guardato dicendo paolo ti vogliamo bene ma questo film e per esempio micidia luci rosse un film che porta il segno degli anni quelle cose che negli anni 80 ci sembravano rivoluzionarie quel post moderno citazionista perde un po' di colpi invece ci sono spesso con i film degli anni 80 che con i film degli anni 40 forse pensano che i cancelli del cielo che è un altro film assoluta che quella volta aveva fatto innamorare un po' tutti e ha perso e ha perso una stella nel nel corso degli anni che queste cose sono continuano cioè in quegli anni un po' a dire erano film che ci che su cui ci buttavamo con l'empeto del del neofita cioè straordinario bellissimo ci toccava difenderli dai barboni dai barboggi che non capivano dalle dei vecchi critici cioè come dire ci sono state le battaglie non soltanto quelle di ernani per la letteratura il teatro ma anche ma anche altre ecco e grazie a dio i film classici però anche loro appunto un uomo tranquillo lo vedi dice ma no ma perché quattro sterbe all'abbia generazione è capitato con tarantino è adesso la schiera dei degli pentiti tu ci avevi messo in guardia da subito sì tarantino penso di aver subito capito che era un po non un bluff ma un regista che ha delle idee geniali ha dei momenti di cinema straordinario e però ogni tanto mi sembra che si compiaccia della sua intelligenza e allora perché devo compiacermi con lui come dire e peggio dei film di tarantino poi ci sono i film alla tarantino soprattutto negli anni 90 hanno riempito le sale influenzando anche registi più vecchi di tarantino come oliver stone che poi si sono messi a fare va beh stendiamo un pietoso silenzio su certi emulismi invece visto che compie appena gli anni e carlo verdone e poi ho l'impressione vedevo ieri sera la grande bellezza che in ogni caso quando arriva sullo schermo quando viene inquadrato verdone è sempre una cosa bella un fascino assolutamente anche in film appunto magari meno riusciti meno verdone verdone come attore è proprio nella grande bellezza tra l'altro ha una parte come dire contro le sue cose sembra che vado fin con verdone che interpreta un personaggio contro verdone però è particolarmente indovinato come la ferilli nello stesso film tra l'altro la grande bellezza è curioso perché quando l'ho visto ne avevo apprezzato le qualità ma non mi se non mi sarei strappato le vesti quando ho visto la versione più lunga di mezz'ora il film ha ripreso un andamento che mi ha conquistato di più è passato da due stelle e mezzo a tre e tra gli italiani altri nomi di italiani magari meno noti di verdone che che segui con piacere che che vedi prima ho detto diritti e i fratelli di innocenzo sicuramente i maestri come dire germi monicelli io sono più monicelli che risi però anche risi ha fatto dei fin straordinari un regista italiano tra virgolette dimenticato su cui vorrebbe la pena di riflettere mario soldati che è stato un grandissimo regista primo citato qualche qualche giovane non lo so il regista di martin i del mi sembra marcello pietro marcello mi sembra un regista su cui sarei disposto a scommettere che diventerà qualcuno importante spero che alice lor wacker mantenga le speranze che ha fatto crescere con questi coi primi due film tanto per fare qualche qualche nome ma per esempio il giovane de paulis che ha fatto un bel film uno solo adesso sono tre anni quattro anni che non fa più niente cioè ogni tanto ci sono degli esordi che ti fanno sperare poi alla fine sembrano perdersi munzi per esempio adesso pian piano i nomi vengono in mente munzi un regista che mi sembra decisamente eppure dopo anime nere non credo abbia fatto no ha fatto delle cioè come dire sono registi che che poi fanno un po fatica a continuare fanno magari delle serie si si mettono in gioco perché il mercato italiano è un mercato complicato che sta pagando adesso un po le conseguenze di aver investito soltanto su certi registi su certi soprattutto su certi generi quelli che incassavano in fretta e dopo aver incassato in fretta uno fa cioè poi alla fine ti trovi che in questi momenti quando c'è bisogno di film che non siano soltanto usegetta perché vai al cinema ti diverti mezz'ora e sei contento e buonanotte poi li dimentichi in questi momenti in cui avresti voglia di film un pochettino più complessi anche da vedere in televisione il cinema italiano ha segnato il passo e queste cose sono ti dispiace ecco che che proprio una questione di livelli di produttivi di gente che deve pensare e di risorse una delle cose che affascinano i cinefili e tutto il pubblico del mereghetti come avrete capito è un laboratorio che lo chiamo il mereghetti perché è un po come i rocci il vocabolario di greco ma l'oggetto è diventato un tutt'uno con la persona si evolve sempre e molti film vengono messi in discussione vengono rivisti vengono approfonditi è successo tra gli altri quest'anno anche per Fellini nel centenario della nascita mi raccontavi che hai rivisto gli ultimi film di Fellini Fellini è un regista complesso con cui come per esempio con Berman ho avuto un rapporto un po' conflittuale agli inizi certe cose mi sembravano stonate e poi grazie a dio anch'io maturo un pochettino con gli anni e certi film invece ho scoperto che avevano delle qualità che all'inizio erano nascoste dietro altre cose abbiamo proprio io personalmente ho cominciato a rifare delle schede dei film di Fellini vorrei farlo tutto però poi come dire rifare tutto Fellini vuol dire dedicargli un bel po' di tempo perché uno deve vederli pensarci magari rivederli e allora ne abbiamo rifatti pochini ho rifatto prova d'orchestra ho rifatto Roma la città delle donne satiricon sì Roma la città delle donne satiricon e prova d'orchestra che come dire sono tutti i film che hanno adesso hanno delle schede corpose con un po' di cose e ce n'è uno tra questi che consigli un film di Fellini che ti ha stupito tra questi meno noti tra questi che non sono considerati nel canone i suoi capolavori ma il satiricon è un film che va secondo me rivisto nel senso che è un film che allora Fellini a un certo momento dopo i clown ha deciso che non gli interessava più una narrazione lineare ma accumulava situazioni momenti così che poi toccava lo spettatore collegare in qualche modo ecco il satiricon è un film di una ricchezza visiva di una pienezza di immagini assolutamente straordinario infatti si prende tre stelle e mezzo questa volta che è un bravo risultato un'ultima cosa siamo tutti bambini quindi vale la pena di sottolinearlo questa volta in copertina abbiamo uno dei personaggi più terribili della storia del cinema ma anche tanto ci hanno fatto paura e continuano a farci paura quando rivediamo la saga di Guerre Stellari e anche se poi alla fine come tutti ormai sanno riescono anche a sorprendere e come mai hai scelto? è stata una cosa un po' che è nata un po' per caso tra io e i miei collaboratori ma cosa mettiamo in copertina? abbiamo girato una serie di ipotesi volevo passare a qualcosa di straniero perché le ultime due edizioni avevano gli italiani Scola e Sofia Loren volevo ritornare agli stranieri abbiamo lavorato tantissimo su Star Wars che ahimè non posso più chiamare Guerre Stellari perché come dire io che ho visto al Manzoni la prima edizione di Guerre Stellari so cosa vuol dire e abbiamo fatto una scheda tematica che prende non so sei o sette pagine che mi sentirei di chiamare definitiva ecco e ci è sembrato quella fotografia è particolarmente significativa certo è un personaggio cattivo è un personaggio un po' funereo sono periodi non particolarmente allegri non avrebbe avuto senso mettere gli innamoratini di Peine in copertina in questo film in questa edizione e poi però comunque nonostante tutto nonostante sia un cattivo è uno dei cattivi più amati della storia del cinema quanti sono i bambini che a carnevale vogliono travestirsi da Darth Vader e quindi abbiamo alla fine scartando questa ci sembrava quella più forte che valesse la pena di usare anche perché come dico il lavoro su Guerre Stellari è stato sul complesso Star Wars è stato piuttosto abbiamo rifatto tutte le precedenti otto schede degli otto film perché la nona è nuova per la prima volta adesso abbiamo regolato i giudizi abbiamo alzato a quattro stelle anche l'intero colpisce ancora un'operazione verità esatto ecco e però abbiamo aggiunto altre cose devo dire che è importante è importante nella storia del cinema è importante come spazio nel dizionario e poi è importante nel mio cuore cioè posso ogni tanto come dire l'unico posto dove posso non pensare alla critica ma far vedere le passioni è la copertina e stavolta l'ho messa io ringrazio Paolo Merighetti io ringrazio te veramente nel Merighetti Star Wars e altri 30.000 film dicevamo all'inizio la prima edizione 33.000 nella prima edizione aveva 13.000 era in un unico volume adesso sono in un in un cofanetto grazie grazie ancora grazie a tutti